Quanto devi essere solo? Sei la prima persona che tu chiami a Natale per fare gli auguri e l'educatore e non tua madre, tuo padre. Ci sono delle solitudini dell'anima che incidono proprio sulla vita di ognuno di noi e anche questi ragazzi poi ne sono vittime. La solitudine dell'anima di cui parla Francesco, operatore della cooperativa Prospettive che da anni segue i giovani affidategli dal Tribunale dei Minori, è quella dei tanti bambini e ragazzi dei quartieri più difficili di Catania, quelli di cui vogliono occuparsi le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e le autorità amministrative che hanno firmato un accordo in prefettura. Mettendo appunto a sistema la collaborazione, la dedizione e l'impegno di tutti su questo tema cruciale per la nostra società. Tutti i più grandi criminali catanesi sono stati ragazzi di un quartiere o di un contesto familiare disagiato, questa è una consapevolezza che ci deve spingere a programmare per aiutare i nostri ragazzi. La sola repressione penale non può sradicare un fenomeno culturale e così nelle scuole ci vuole tempo pieno, attività pomeridiane, servono nuovi luoghi di aggregazione o sportivi e interventi più tempestivi. La procura può ora segnalare già durante le indagini i casi più critici e il Tribunale dei Minori, allontanare ragazzi o bambini dalla famiglia mafiosa. Il tempo necessario a mostrare che un'altra via è possibile. Permette alla persona di percepire quelle che sono le sue potenzialità e quello che può fare e quindi questo cambia le situazioni di disagio, solitamente è questo l'attivatore che poi mette in atto un cambiamento reale sulla persona.